buongiorno a tutti felpettina da brrrr che freddo che fa perché dobbiamo parlare di sci nel weekend cinque gare cinque gare signori lo scorso weekend venerdì sabato e domenica cinque gare cinque belle garettone forse anche sei ma credo siano cinque tre maschili e due femminili quindi partiamo subito bando alle ciance ciancio alle bande con la discesa libera maschile da kisbu e la mitica strife del venerdì gara del venerdì 21 gennaio 2022 il primo a scendere è mass france vediamo quale sarà il suo tempo finale e naturalmente anche il primo tempo da battere 1 59 54 è il suo tempo complessivo conclusivo di questa gara di due minuti che fa paura fa veramente paura infatti i cronisti dicevano chi non ha il coraggio di scendere sulla strife ha comunque rispetto ed è anche degli altri sciatori perché non c'è niente di male con il pettorale 2 scende bauman e comodamente proprio come bersi un bicchier d'acqua si prende il primo posto con la bellezza di un secondo e 57 centesimi di vantaggio devono ancora scendere i favoriti quindi non diciamo nulla mas france sicuramente non ha fatto una grande gara però un secondo e mezzo di vantaggio e tanta roba e quindi forse ma una buona gara da primi dieci l'ha fatta forse forse è perché tocca al mondo tocca toccano non ne devono scendere tocca a cricmaier pettorale 3 e anche lui a sua volta si prende il primo posto con ben 58 centesimi di vantaggio cricmaier è uno dei papabili per la vittoria finale diciamo che nella strettoietta non è che ha fatto ecco non ha fatto il fenomeno però per tutto il resto della gara abbastanza bene e quindi attendiamo di vedere gli altri però diciamo che una gara tranquillamente tra i primi 5 tra i primi 10 sicuramente forse anche tra i primi 5 torca tocca a emersberger pettorale 4 e clamorosamente perché nessuno se l'aspettava anche lui si mette davanti a tutti di ben 21 centesimi e adesso sì che la questione si fa interessante perché la gara è bella ogni discesa c'è uno che si pone con un tempo inferiore rispetto a quello che è sceso prima e quindi la gara si fa interessante vediamo se questa regola la mantiene anche la nostra domenica paris pettorale number five ahimè è solo quarto con un distacco di ben 96 centesimi e rischia con un ritardo del genere non solo di non rimanere nei 10 ma anche di non rimanere nei 15 staremo a vedere cosa succederà peccato peccato e si vede che con la strada non ha ancora un feeling giusto magari perché comunque qualche volta ha vinto due volte ha vinto sulla strada il nostro paris quindi la conosce però magari del gara di domenica chissà che non diciamo nulla perché adesso tocca a ganon pettorale 6 mamma mia che gara dello sciatore americano si prende il primo posto con 20 centesimi di vantaggio e come dicevo prima parte a me il bon dominic paris gara bella ogni giudiciatore che scende migliora il tempo di quello che è sceso prima e lì ci si diverte ragazzi perché quando le gare sono così è un divertimento la cosa triste è quando il numero uno scende fa il miglior tempo gli altri scendono gli stanno sempre dietro sempre dietro sempre dietro che non è bello è bello perché è sceso per primo libidile ma non per chi deve raccontarvi la gara tocca a matthias mayer e diciamo che dopo la discesa di mayer forse è la volta buona che smetto di scrivere visto il garone dello sciatore ascriaco che è stato veramente da doppia libidile e qua mi fermo perché non si sa mai che magari dopo qualcuno fa ancora meglio poi non trovo più le parole come diceva al bon liga non trovo le parole per descrivere questa gara però in questo momento una gara da doppia libidile per mayer si può dire va in testa con 39 centesimi di vantaggio e in effetti gli sciatori che sono scesi dopo di lui non gli sono stati davanti e adesso tocca a childe pettorale 11 11 e forse childe ha messo il chiodo sulla sedia la sedia è mia ha messo il nome non mi ci togliete più sono sul trono della strife perché si prende il primo posto con ben 67 centesimi di vantaggio quindi salvo delle mega super estreme sorprese dovrebbe pronto sono childe avrei prenotato il primo posto sulla strife grazie teoricamente teoricamente staremo a vedere con il pettorale 12 scende bene ma purtroppo dopo metà gara si fa sbalzare e termina contro le reti di protezione speriamo non si sia fatto male perché è andato giù bello praticamente è saltato si è seduto lo sci è andato è decollato letteralmente è finito nelle reti e finire nelle reti per quanto ti aiutano non finire giù dal burrone contemporaneamente senti il tutto 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 che quando agli sci ai piedi eccetera magari ti fa girare il ginocchietto e ti salta tutto fortunatamente nulla di grave è sceso con le suo con gli sci fino in fondo ha terminato tra virgolette la gara per modo di dire comunque finito ha finito è sceso non è valida però almeno è tornato sano e salvo come dicevano i cronisti cadere sulla strife non farsi male è come aver vinto la gara nessuno riesce a stare davanti a childe tocca al nostro hinderhofer pettorale 20 20 obiettivo fare meglio del suo compagno di squadra che ahimè non è stato all'altezza in questa prima gara alla fine è solo tredicesimo ahimè con un secondo e settanta di ritardo in ogni caso il buoni di roffer riesce a stare davanti almeno al povero dominic paris almeno quello piccola consolazione però è fuori dai dieci tocca al nostro mattia casse pettorale 21 purtroppo quando si mette sulla stradina va a picchiare un attimino contro le reti che lo rallentano un attimino perde un botto di tempo e termina la gara con un ritardo pesante di due secondi e 18 centesimi al diciassettesimo posto e qua speriamo riesca almeno a stare dei 30 per prendersi qualche punticino e mantenere comunque un pettorale sempre tra i 15 e 30 non uscire addirittura dai primi 30 tocca al nostro matteo marsaglia pettorale 22 una buona gara riesce a prendersi la decima posizione e per il momento al migliore degli italiani che sono già scesi speriamo riesca a rimanerci nei dieci o comunque non perdere troppo posizioni dopo la discesa anche degli altri atleti tocca ad uncle mayer ma dopo pochi secondi di gara perde uno sci e termina nelle reti e viene letteralmente avvolto dalle stesse come un pesciolone fortunatamente anche lui nonostante rimanga un attimino si rialza e poi scende con i suoi sci fino fino in fondo a valle e quindi problemi non ce ne sono meno male seconda caduta sulla strada senza conseguenze la classifica dopo la discesa dei primi 30 atleti vede sempre click il del primo posto dondo clare 41 anni e non sentirli al secondo clamoroso clare a cinque podi due secondi posti e tre a terzi posti o viceversa però non aveva vinto sulla strada c'è sempre qualcuno che gli rompe le uova nel paniere per intenderci al terzo posto abbiamo mayer al quarto odermatt al quinto crofford che migliora miglior prestazione per lui quinto posto aveva un quattordicesimo un sedicesimo adesso anche un quinto tra l'altro sulla strada che fa libidire al sesto abbiamo canon canong al settimo foitz all'ottavo interman al nono ebes berger e al decimo bennett per quanto riguarda gli italiani marsaglia è undicesimo i de roffer e quindicesimo il nostro casse ventunesimo e il nostro paris e ventiduesimo al termine della gara c'è da segnalare un incredibile gizze danner gizze danner che con il pettolare 43 riesce a prendersi la terza posizione beffare il povero mayer per pochi centesimi ma per il resto i primi due rimangono invariati quindi la classifica finale di questa prima gara sulla strife del 21 gennaio 2022 vede childe al primo posto claret è secondo gizze danner al terzo quindi due francesi secondi e terzi e un norvegese al primo posto mayer è quarto odermatt è quinto crofford è sesto ganon è settimo foitz è ottavo interman è nono ebes berger è decimo per quanto riguarda gli italiani tutti e sei a punti perché abbiamo dodicesimo marsaglia quindicesimo bosca che con il pettorale piuttosto alto è riuscito a inserirsi in quindicesima posizione e ci voleva perché un po di fiducia un quindicesimo posto sulla straife è libidine al dici e settesimo posto abbiamo il nostro inerofe al 26esimo abbiamo casse al 27esimo abbiamo paris e al 28esimo prima volta credo a punti per zazzi 28esimo con un pettorale molto molto alto scendere sulla straife e prendersi dei punti non di sutura ma dei punti di classifica è libidine sempre soprattutto per un ragazzo giovane che si sta approcciando adesso alle gare dei grandi come si suol dire detto questo ragazzoli purtroppo gli italiani sono fuori dai primi dieci però ne abbiamo sei dei venti dei trenta scusate anzi dei 28 essere precisi tutti e sei che sono scesi sono andati a punti ci si può accontentare chi si accontenta gode capisco che vedere un pares ventisettesimo sulla straife non è bello lo aspettiamo in super g e lo aspettiamo soprattutto della rivincita della domenica del 23 gennaio di cui parleremo nei prossimi giorni detto questo ci vediamo alla prossima ciao